Salve, sono John Vennari e bentornati a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV dove il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponde alle domande su Fatima e sulla fede cattolica. Inviateci dai nostri telespettatori alla casella email domande-fatima.it. Nella scorsa puntata stavamo affrontando una duplice domanda. Che cos'è il terzo segreto di Fatima? E perché alcuni prelati della chiesa cattolica lo stanno tenendo nascosto? Padre Gruner ha spiegato i contenuti del terzo segreto e tutte le prove che indicano come in esso si parli della grande apostosia che avrà inizio dai vertici della chiesa. Ma perché questi prelati continuano a tenerlo nascosto? Continuiamo da qui padre. Sì ovviamente c'è da premettere che una breve trasmissione come questa si può affrontare solo superficialmente un argomento come il terzo segreto o l'apostasia nella chiesa. Per questo vi rimando ai nostri libri come Il segreto ancora nascosto e La battaglia finale del diavolo. A questo proposito ha fatto bene a citarli padre. Invito i nostri telespettatori ad ordinare questi libri così importanti mandando un'email a domande-fatima.it oppure andando direttamente sul nostro sito internet www.fatima.it. Dicevo oltre a questi libri sarebbe anche il caso di guardare il nostro documentario Il segreto ancora nascosto che mandiamo regolarmente in onda qui su Fatima TV e che potete trovare anche su www.fatima.it dove scoprirete molte più informazioni su questo argomento. Detto questo per rispondere alla seconda domanda e cioè perché alcuni prelati starebbero nascondendo il terzo segreto vorrei per prima cosa ricordare gli insegnamenti di San Giovanni Eute in merito ad un aspetto molto inquietante. Nel primo capitolo del suo libro sulla dignità del sacerdozio San Giovanni afferma che quando Dio è adirato con il suo popolo il peggior castigo che possa inviare sono i cattivi sacerdoti. San Giovanni Eute dimostra questa sua tesi citando il libro di Geremia capitolo 3 versetto 15. In quel passo per mezzo del profeta Geremia Dio dice al popolo se tornerete da me e da Dio io vi invierò pastori secondo il mio cuore. In altre parole quei pastori nell'antico testamento si prenderanno cura delle vostre anime. San Giovanni però elabora ulteriormente questo concetto e afferma che se il popolo di Dio al contrario sceglierà di volgere le spalle al nostro Signore se non pregherà e non si pentirà allora Dio invierà i loro sacerdoti che saranno come lupi travestiti da gnelli e che porteranno il loro greggio all'inferno invece che in paradiso. Perché quindi i prelati moderni insistono nel tenerci al lato il terzo segreto? Perché stiamo venendo puniti da Dio per mezzo di cattivi sacerdoti, cattivi vescovi e cattivi cardinali. Se davvero avessero a cuore la nostra salvezza infatti ci avrebbero già rivelato un segreto che contiene la soluzione per risolvere tutti i problemi della nostra epoca invece di inventarsi scuse patetiche come sua Lucia non voleva dire una cosa del genere oppure se l'ha inventata oppure ancora tutto questo va contro il nuovo orientamento della Chiesa. Hanno un atteggiamento simile a quello che Malachi Martin, un sacerdote che ebbe modo di leggere il terzo segreto, definiva complesso di Giuda. In pratica l'idea che Giuda aveva di se stesso, che dopo tutto non era così cattivo, sì aveva tradito Cristo nella sua mente pensava di saperla più lunga dello stesso Gesù e siccome la sapeva più lunga voleva che Gesù facesse miracoli di fronte ai sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Gesù aveva le sue idee, Giuda ne aveva delle altre e quindi penso Gesù deve conformarsi alle mie idee. Sì, Giuda voleva che Cristo si salvasse e compisse un miracolo davanti agli occhi del mondo in modo che tutti potessero dire lui è Cristo e riconoscerlo. Ma non era quella la via del Signore e per portare avanti le sue idee Giuda tradì Gesù. Lo stesso accadde con questi uomini in Vaticano, stanno tradendo Cristo, hanno un loro progetto, vogliono la pace nel mondo ma secondo i loro termini. Non solo non vogliono farlo usando lo strumento indicato dalla Madonna di Fatima, cioè la consacrazione della Russia, ma vogliono farlo unendosi ai massoni e alle altre religioni del mondo, eliminando i dogmi e unendosi in una democrazia universale dove tutti si rispetteranno l'un l'altro. Non ha mai funzionato. Esatto, ma perseverano in questo loro tentativo. Hanno questo complesso di Giuda e penso che Malachi Martin l'abbia preso dal segreto. È questo complesso di Giuda a spingere le azioni di questi cattivi prelati. Costoro sono un castigo infertoci da Dio perché abbiamo smesso di pregare e di pentirci. Purtroppo molti di quei cattivi sacerdoti e vescovi si trovano in Vaticano e da lì stanno sviando i fedeli e conducendo la Chiesa verso un nuovo ordine e una nuova religione mondiale di stampo massonico. Sì, lo credo anch'io. Ma forse è meglio chiarire ai nostri telespettatori che non stiamo parlando di persone malvagie nel senso di ladri e assassini. Per carità, stiamo parlando di un male diverso, di persone colpite da quella che Lucia definì disorientamento diabolico, che li allontana da Dio e li porta verso i progetti del demonio. A molti questo progetto del demonio, tra l'altro, può sembrare buona cosa perché è incentrato sull'uomo. Perché tutto ciò che conta sarebbe la nostra umanità e la pace nel mondo. Già. Ma senza. Senza Dio. Senza il progetto divino. Sì. Facendo a meno di Dio. Ma Dio ovviamente non ce lo permetterà perché il bene supremo appartiene a Lui e non possiamo trovare la bontà e la pace senza prima cercarla in Dio. Gesù disse, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Purtroppo costoro cercano prima il regno dell'uomo, ma seguendo questo cammino non otterranno nessuno dei due. Ecco perché non ci consegnano il terzo segreto, perché sono preda del disorientamento diabolico e mentono a noi come a loro stessi. Il diavolo ha fatto passare il bene a guisa del male, come disse sua Lucia. Sono tutti intenti nel seguire questo scopo malvagio, che è stato presentato loro dal demonio come se fosse il migliore possibile. Per questo non dicono la verità su Fatima e non rivelano il terzo segreto di Fatima, perché loro la sanno più lunga. Ma quanto sono sciocchi nel pensare una cosa del genere. Si illudono pensando di essere nel giusto perché sono i più ciechi di tutti, come disse Papa Benedetto. Sono soltanto degli illusi e stanno facendo la cosa sbagliata. Quindi dobbiamo continuare a insistere sulla pubblicazione del segreto. E anche a pregare. E a pregare per questo. Non lasciatevi ingannare da chi vi dice il segreto è stato pubblicato, perché non è così. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Certo. È stato rivelato integralmente? Cosa accadde il 26 giugno 2000? D'accordo. Ne parleremo la prossima volta. Grazie a tutti.